Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Le anime sante, spero dopo la condividerete a tutti e farete iscrivere tutti i vostri amici al mio canale YouTube Savinotesse attivando la campanellina delle notifiche. Considerazioni sulla poesia. Belle, intense e degne di lode sono le anime ricche di santità e sono amabili, perché sono degne di dolcezza, candida vita ricca di fede e colme di azioni piacevoli. Riempiono il cuore le persone sante, hanno un animo buono, generoso e di intensa bontà. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Le anime sante. Belle, intense e degne di lode, le anime sante sono amabili e nella dolce e candida vita di fede sono colme di azioni piacevoli. Ti riempiono il cuore di amore per la loro intensa bontà, che, ricca di fede e intrisa di passione, dona con piacere la degna santità. Ti confortano l'anima e la rinvigoriscono. Offrono pace e giusta condizione. Per la vita che riempiono e acclamano, donano il senso del dolce stupore. Le anime sante, corona di saggezza, offrono fide sante sublime. Carica di lieta mitezza e una speranza per le persone degne. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci.